Ho messo un diodino immediatamente all'ingresso e facendo la chiamata è un diodo per segnare l'aggiunzione, una capacità enorme Questa è la chiamata Diodo messo all'ingresso in serie con questo con questa antenna diciamo che poi non si sa bene che cosa sarà Avvicino l'antenna a 2 gigahertz E quello è il risultato Viene che il diodo è un diodo di raddrizzamento per la rete Il diodo fa l'antenna e la capacità variabile che per effetto pointing appunto varia solo in senso positivo L'integrato ho messo all'ingresso le due giunzioni per dimostrare le due giunzioni di ingresso messi in parallelo Adesso ho messo il piedino di massa a massa Abbiamo la demodulazione Allora vabbè Infatti sono le giunzioni Allora vabbè Allora vabbè Allora vabbè Allora vabbè Allora vabbè Allora vabbè Allora vabbè